Questa volta mi ce la si promette io, Tiveno. Lo spero per te. Ciao Tiveno. Ciao. Cosa devo fare io? Ah si, preparami il pranzo. Oggi voglio farmi qualcosa di nuovo. Gnocchi mozzarella. Ehi, ci serve il tuo aiuto. Come stai esce, Lennon? Tutto bene sì, però... È davvero affamato per via della gravidanza. Non sapevamo cosa fare e siamo venuti qua. Ah, va bene. Vedo se riesco a trovare qualcosa per farti placare l'appetito. Dimo adesso. Va bene, grazie. La situazione è più grave del previsto. Scusa, ma avevo fame. Non preoccuparti. Dai, seguitemi. Tiveno, pensi che questa vasca di cioccolato possa bastare? No. Non basterà. Impossibile. Quella vasca ci saranno almeno 70 le... Ah. Adesso avrei fame di... Di? Di cervella. , ha. Chi*** è a mia... , c'è a sia. Il nostro... rigorosa paura ?! Gposina è gi Cristina e Mirizzabili! Grazie a tutti